E' dai tempi dell'università che ci conosciamo, abbiamo messo su un gruppo, abbiamo avuto successo subito. Oh, ma successo quello era. Poi sono arrivati gli anni Ottanta. I gruppi sono come i tram. Prima o poi bisogna scendere. Ci definiscono vintage, come i mercatini dell'usato. Siamo interessati a rilevare i diritti di tutto il vostro repertorio. Siete pronti a tornare a essere famosi? Selfie. Ciao soci. E voi che ci fate qua? Siamo qui con il gruppo, no? Ciao. 40 anni. The boys on the road again. Vai, anche tu. Oh, questo è un casino. Sei scemo. Joe.